Cambiano i marchi, le persone restano. Centro spedizioni, ballaggi, logistica, in via 25 Luglio a Cava dei Tirreni. Due ufficializzazioni in poche ore per la Cavese. Intorno alle 16 è stato annunciato ieri alla stampa l'ingaggio del centrocampista Federico Scoppa, arrivato a titolo definitivo dal Vicenza. Poi in serata è stata la volta del portiere Matteo Kucic, preso in prestito dal Pisa. Tutti e due potrebbero già essere a disposizione di Campilongo dopo domani contro la Vibonese, in una gara che i bianco-blu dovranno cercare di vincere in tutti i modi. Oggi sarebbe giorno di tamponi Rino-Faringei per il gruppo squadra. Scoppa ha 33 anni, è un classico centrocampista di regia, è argentino ma ha chiare origini italiane e gioca in Italia da quattro anni e mezzo. Era stato prima al Catania, poi al Monopoli e successivamente al Vicenza e ha sempre lottato per le posizioni alte della classifica. Ha giocato in Argentina, in Italia, ma anche in Cile, in Portogallo e in Finlandia. Con la Cavese ha firmato sino al giugno 2022, così come avevano fatto anche Calderini e De Vito, a testimonianza del fatto che la società metelliana ha cercato anche di trasmettere agli stessi giocatori di rinforzo quelle motivazioni e quella voglia di credere alla possibilità di mantenere la Serie C e con essa anche lo status di società professionistica. In caso di salvezza miracolosa, il club sarebbe certo di poter puntare anche su quei giocatori. Il 22enne portiere Kucic, invece, torna nelle file della Cavese a titolo temporaneo. Aveva fatto delle buone partite nella scorsa stagione, proprio con la squadra metelliana, e si era comportato bene fino all'infortunio patito 12 mesi fa contro la Regina. Una volta ripreso, sì, ha ricevuto proposte da numerosi club, in particolare Monopoli e Mantova, ma la Cavese l'ha spuntata su tutte le altre. Ritorno inatteso quello di Kucic, per cui potrebbe uscire un portiere. A questo punto il DS Lamazza lavora per poter prendere l'esterno destro. Il giocatore che arriverebbe a riempire questo tassello poteva essere Mirko Esposito, del Mantova, ma ultimamente sono cresciute le quotazioni di Antonio Natalucci, classe 2000 che è di proprietà della Triestina. Natalucci, pur giocando nella nostra Serie C, è già un giocatore internazionale, perché è nel giro della Nazionale della Repubblica Dominicana, che è il paese di origine della madre, quindi gode della fiducia del CT caraibico. Considerati gli acquisti già fatti, in particolare quello di Kucic, la Cavese proverà a spoltire.